un prodotto alimentare che non dovresti mai consumare perché non è per nulla sano certo contiene molto calcio quindi si potrebbe pensare che è funzionale per la donna dopo la menopausa ma non è così scopriamo di quale prodotto alimentare sto parlando allora sto parlando delle sottilette hai presente quelle che si mettono nel toast fammi sapere nei commenti se le consumi spesso considera che l'etichetta nutrizionale evidenzia ben 580 mg di calcio ogni 100 grammi di prodotto che corrispondono a 4 sottilette 100 grammi di sottilette apportano ben 3,11 grammi di sodio che corrispondono a 7,77 grammi di sale il sale è un fattore di rischio per l'osteoporosi perché aumenta l'escrezione urinaria di calcio ma non solo l'eccesso di sale può portare a ipertensione malattie cardiovascolari e al tumore gastrico